Ciao a tutti ed eccoci negli studio BTV News. Siamo in compagnia di Alessia Cuffia. Ciao. Innanzitutto Alessia grazie di essere qui, bentornata. Grazie mille, molto bene, grazie. Allora è partito ieri un progetto molto interessante. L'iniziativa è stata di Alessia, appunto, ed è, si chiama Scatole di Natale Canavese, edizione canavese. Ok. Com'è nata questa idea Alessia? Allora, io ci tengo a dire che non è tutta farina del mio sacco, perché, onor del vero, io questa iniziativa l'ho conosciuta l'anno scorso a Milano, perché avevo visto che era stato organizzato questo evento da una serie di persone che avevano deciso di mettere in piede questa iniziativa. Io, una pausa pranzo della scorsa settimana, stavo mangiando con le mie colleghe, e a un certo punto, io che non so mai stare ferma e senza pensare, ho detto, perché non iniziamo a proporre questa iniziativa qua? Quindi è nata, diciamo, nel giro di dieci minuti e si è scatenato un bellissimo evento, perché io l'avevo inizialmente pensata su Rivarolo e i comuni adiacenti Rivarolo. Poi, in realtà, per fortuna si è estesa anche al di fuori dei comuni limitrofi. E siamo riusciti a sentire e contattare persone che hanno deciso di aderire, persino oltre a Ivrea. Quindi arriviamo fino a Romano, ci sono dei punti su Frassinetto, ci sono delle scuole che hanno organizzato a Caravino, ci sono un sacco di comuni al di fuori, appunto, di Rivarolo Canavese. Il progetto prevede la donazione di scatole. Io diciamo che ho dato un'indicazione generica, nel senso che ho detto potete scegliere se fare una scatola per un bimbo, donare una scatola a un bimbo o una scatola ad un adulto. Ci sono una serie di oggetti da inserire, io ho proposto una cosa calda, un prodotto di bellezza, un passatempo, un giocattolo nel caso fossero bambini, un biglietto, che secondo me è la parte più importante, perché comunque alla base del tutto di questo progetto c'è proprio il discorso del sentirsi di nuovo comunità e di avere un briciolo di solidarietà, visto che stiamo attraversando un periodo in cui in giro senti solamente guerre, litigi e discussioni tra le persone. Il tutto viene appunto confezionato all'interno di una, ho detto, scatola di cartone, impacchettato, infiocchettato e la scatola viene portata nei punti raccolta, punti raccolta che in questo momento sono principalmente negozi, piuttosto che bar o ristoranti che hanno aderito, che fanno appunto da punto raccolta e nel momento in cui hanno un tot di scatole mi chiamano, io vado, ritiro queste scatole e le porto alle varie associazioni e strutture che hanno deciso di aderire al progetto e di a loro volta consegnare queste scatole alle persone meno fortunate, più bisognose nei giorni prima di Natale. Quindi hai avuto molti riscontri fino adesso. Sì, per fortuna sì e questo è bello perché diciamo che appunto il motivo per cui è nato il tutto è stata questa voglia di sentirsi di nuovo tutti parte di un progetto che avesse come scopo il fare del bene, avesse come scopo ultimo il riuscire a donare un sorriso o comunque fare qualcosa che ti faccia di nuovo sentire un gruppo unico e non tante persone divise tra, ti faccio l'esempio classico di questi giorni, vaccinati, non vaccinati e tutte le cose che comunque stiamo sentendo in questi giorni, quindi sì, sta avendo un bel successo. Perché se no te non riusciamo a essere comunità? Ma non riusciamo perché comunque noi stiamo andando secondo me verso purtroppo una società molto incentrata sull'ego, sul me, sull'io più che sul noi e questo dipende comunque da tutta una serie di situazioni che si stanno creando, di anche benefit che comunque abbiamo avuto nella nostra vita, nella nostra generazione per prima perché comunque noi alla fine siamo, cioè i nostri genitori sono diciamo figli del boom economico che c'è stato, quindi diciamo che iniziavano magari a godere di determinate cose, ma la mia generazione si è già trovata quasi tutta la pappa pronta e quindi stiamo comunque assistendo a questo cambio in cui c'è sempre il me stesso davanti a tutto il resto, davanti alla collettività, cioè prima vengo io e poi viene tutto il resto. Io sono una persona che comunque pensa che alla fine della fiera il noi sia la cosa più più importante perché sostanzialmente tanti piccoli tassellini insieme non fanno niente mentre invece se si vuole costruire qualcosa bisogna unire comunque le capacità, la personalità e le possibilità di tutti quanti noi, quindi diciamo che questo è stato alla base del progetto. È un discorso molto da leader, però ci torniamo dopo su questo. Volevo chiederti un attimo una questione più tecnica, così giusto due minuti, così le persone che ci ascoltano sanno come donare appunto, fare questi regali, visto che sei andato fortissimo fino adesso, finiamo due minuti giusto per spiegare ai cittadini come fare e che punti andare e in che associazioni andranno a finire, perché ho visto che oggi hai pubblicato l'elenco di tutte le associazioni. Esatto, allora io vado proprio parlando per passi, facciamo, io sono una cittadina, classica cittadina, abito a Rivarolo Canavese perché ovviamente sono di Rivarolo, decido di aderire all'iniziativa. Punto numero uno, scelgo se fare una scatola per un bimbo piuttosto che una scatola per un adulto, ovviamente bimbo-bimba, adulto-adulta, anziano-anziana, così non facciamo distinzioni che in questi non mettiamo asterischi e cose del genere che vanno così di modo ultimamente. Posso anche decidere di fare sia una per un bambino che una per un adulto che una per un anziano, quindi diciamo lista a discrezione del singolo cittadino. Alessia decide di fare la scatola per un bimbo maschio. Una cosa calda, prendo una scatola di cartone, che può essere la vecchia scatola di scarpe che tutti quanti a casa abbiamo, metto dentro una cosa calda, quindi bimbo mi viene in mente il cappellino, prendo e inserisco un cappellino. Ovviamente deve essere tutto pulito, tutto igienizzato, possibilmente nuovo e soprattutto io quello che ci tengo a dire è che questo non deve essere fatto per svuotare le cantine, per svuotare gli armadi, ma deve essere fatto per riempire le persone che ricevono il tutto. Quindi non è un'opera di svuotamento, ma è un'opera di riempimento. Io questa cosa ci tengo a dirla. Dopodiché una cosa, un prodotto di bellezza, prodotto di bellezza per i bimbi. A me viene in mente ad esempio le salviettine, quindi prendo e metto le salviette, ma uno potrebbe anche utilizzare uno shampoo, un bagno schiuma, la crema per il culetto, un elastico ad esempio se si tratta di una bambina. Dopodiché un giocattolo o un libro. Io che amo i libri e che amo leggere libri a mio figlio, ho inserito nella mia scatola un libro, quindi inserisco quello. Poi abbiamo una cosa golosa, pensata per i bambini, quindi può essere ad esempio una scatola di cioccolata, piuttosto che un pacchetto di biscotti, mentre invece, su questo ci tengo a dirlo, se uno fa la scatola per l'adulto, siccome in questo momento, soprattutto parlando anche con le Caritas, c'è tanta fame in giro, la scatola per l'adulto è più pensata piuttosto che sul goloso, proprio su un genere alimentare come può essere un pacchetto di pasta, piuttosto che un pacchetto di cracker, qualcosa di effettivamente sostanzioso che possa sfamare la gente. E poi, come dicevo prima, un biglietto di auguri che venga letto e che venga comunque preso da chi riceverà questa scatola. Una volta che ho inserito il tutto, prendo la mia bella carta da regalo, che può tranquillamente anche essere carta da giornale colorata poi dai bambini, cioè lì sta ovviamente all'inventiva e alla fantasia delle persone, ci metto un bel fiocco perché io amo i fiocchi e decido di portare la mia scatola a un punto di raccolta su Rivarolo Canavese. Quindi vado, in questo caso io sto utilizzando Facebook e Instagram perché ovviamente sto usando molti social, guardo l'elenco dei punti raccolta che ci sono a Rivarolo, prendo uno dei negozi che ci sono a Rivarolo e vado a consegnargli questa scatola. L'esercente dell'attività riceve la scatola, la mette da parte, quando otterrà un tot di scatole chiama Alessia, Alessia prende, va in negozio e ritira. Alessia quando avrà un tot di scatole, io ho dato come tempistica al massimo il 19 di dicembre, che sarà una domenica, prenderà tutte queste scatole e andrà nelle varie associazioni. Tra le varie associazioni noi abbiamo l'Anfas di Rivarolo Canavese, una serie di Caritas, tra cui Fabria, Rivarolo, Prascorsano, Rivarossa, Ivrea, perché come dicevo prima ci sono punti raccolta anche su Ivrea. Abbiamo un'associazione che si chiama Con altri occhi di Valperga, abbiamo una casa che si occupa di mamme e figli su Fabria che si chiama Casa Elsa, quindi comunque ci sono un tot di associazioni che la settimana prima di Natale o il giorno di Natale, questo ovviamente sarà poi da decidere da loro, consegneranno queste scatole ai bimbi, agli adulti o agli anziani e quindi questo è quanto. Ok, direi che sia stata precisissima. Perfetto. Infatti è una bellissima iniziativa e sono contento appunto di riuscire a fare un po' di, tra virgolette, pubblicità anche se non hai bisogno. No, no, no. Però io ci tengo anche a dire una cosa, questa cosa è fatta anche, e ci tengo a dirlo, perché io parlando con queste associazioni ho avuto modo di vedere il bisogno che c'è di persone che vadano a fare volontariato. In tanti mi hanno detto è bella questa iniziativa ed è molto bella che venga fatta sotto a Natale, perché comunque Natale è molto sentita da chiunque, però ci teniamo a dirti che comunque c'è bisogno che nelle associazioni e che delle associazioni ci si ricordi anche durante tutto il resto dell'anno. Quindi io ho anche pensato di far conoscere ogni giorno, appunto la mia pagina Facebook, le varie associazioni, le varie strutture, di modo che chi possa essere interessato a prestare il proprio tempo, prestare anche effettivamente la propria volontà ad aiutare queste persone che seguono questi progetti, possono appunto aumentare effettivamente l'efficienza e l'efficacia di queste associazioni che ricoprono tantissimi comuni e sono presenti in tantissimi comuni del nostro canavese, poco conosciute perché ce n'è qualcuna magari meno conosciuta, ma che comunque aiutano tante persone. Grazie mille Alessia. Grazie a voi.